Sarà presto mia cura organizzare qui a Montecitorio un incontro allargato con tutte le associazioni che si occupano di diritti e di fare il punto e vedere come noi oggi possiamo continuare a promuovere un'agenda che a mio avviso non è molto sentita nelle sale della politica. Ci sono tante cose che devono poter essere poste all'attenzione, la legge della cittadinanza è una di quelle, purtroppo la legge della cittadinanza non è stata mai calendarizzata, nessuno mi ha mai chiesto di calendarizzarla, credo che sia uno dei temi più importanti su cui invece bisogna riaprire un dibattito, su questo ma non solo su questo. Allora io starò fino a un certo punto e poi purtroppo dovrò scappare e me ne scuso fin da ora.